Buongiorno a tutti i criptomalati e bentrovati in questo video, video un po' tragico queste le situazioni che si stanno verificando sulle criptovalute cosa importante prima di cominciare le analisi e capire un po' come comportarsi in questo momento so che a tanti farà piacere il mio supporto anche psicologico quindi spero davvero di esservi d'aiuto per farvi un po' pulire il cervello e più che altro capire come impostare eventualmente una fase attuale allora la cosa fondamentale non sono consigli finanziari ma è la mia didattica, il mio approccio ai mercati in questi contesti contesto molto delicato perciò mi raccomando state attenti a quello che vi sto per dire e cosa fondamentale lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale subito detto ciò abbiamo il grafico di FTX allora FTX è un exchange che fino a poche ore fa potremmo dire veniva visto e indicato da moltissimi youtuber, influencer, trader e chi più ne ha più ne metta per quanto riguarda la diversità di strumenti che proponeva e ovviamente la forza che dimostrava sui mercati poi diciamo così per motivi di insolvenza, per motivi di blocco dei prelievi e per altre vicissitudini diciamo che Binance ha preso un po' il sopravvento e FTX ha praticamente perso tutto il suo valore praticamente abbiamo visto un FTX toccare livelli davvero molto interessanti vediamo il grafico settimanale per farvi capire bene cosa sto per dirvi eccolo qua il grafico weekly abbiamo visto un FTX valere anche quasi 90 dollari e oggi stare in zona 4,50 ieri ho fatto una mia analisi veloce mentre capitavano questi capitomboli avevo individuato in zona 9,50 un primo livello di supporto e il secondo livello era in zona 4,55 dollari ve la faccio dire adesso giusto perché poi eccola qui allora questa qui era un'altra zona di riferimento fra i 3,50 e i 4 allora che cosa sta accadendo e che cosa possiamo fare? innanzitutto quando il mercato è ribassista ragazzi così fortemente ribassista è inutile essere speranzosi no? è un mercato che è ribassista settimanalmente quindi non è più un discorso di movimento saltuario o qualcosa di anomalo sapevamo già che fosse ribassista diciamo che ogni posizione aperta su FTX rappresentava un grosso rischio perché il mercato ribassista sul lungo periodo poteva premiarci da qui ai prossimi mesi o magari affossarci in questo caso c'è stato un affossamento generale il mercato ne sta risentendo totalmente in modo negativo molti stanno scappando che sia la volta buona per comprare tanti dicono addirittura hanno messaggi no? ma che dici se compro adesso conviene? allora il discorso è sempre il solito dipende dalla strategia allora se parliamo di trading e parliamo di buy su FTX facciamo un errore ma a qualsiasi livello cioè dai 30 ai 40 ai 20 ai 18 cioè il buy da trader è un errore adesso è proprio palesemente un errore poteva esserlo sui livelli di supporto in zona 23 poteva essere interessante però poi abbiamo visto che è durato comunque non tantissimo e questa news ha sbaragliato la dinamica di resistenza e di supporto da parte di quel livello lì e quindi poi abbiamo visto toccare due supporti direttamente in pochissime ore parliamo di dinamiche che sono verificate in un giorno quindi non c'è qualcosa di allucinante perdere quasi tutto il valore in un giorno allora alla domanda che cosa posso fare mi conviene vendere tutto? mi conviene tenere? dipende dal capitale che tu hai investito perché ovviamente se io avessi investito 50.000 euro al perderne 50.000 davvero sarebbe abbastanza particolare come mossa, come strategia se la mia visione è di gestione sul lungo periodo sicuramente fare io personalmente faccio così la parte che dedico al lavoro investitore lungo periodo ho sempre un po' di liquidità e ogni volta che il mercato scende acquisto una piccola percentuale di quella cripto o quell'altra ovviamente parliamo di scelte che vanno fatte per logiche comunque personali e andiamo a capire come farle cercando di gestire io ho fatto diversi video che vi consiglio di vedere dove faccio vedere il ribilanciamento periodico quindi in base alle cripto che mi scelgo vado a gestire vi metto qua i link sia in scheda che in descrizione in base al periodo quindi non so scelgo il mese per ribilanciare il portafoglio in base alla mia liquidità piuttosto che alle cripto e alle dinamiche che si verificano e vado poi quindi a ribilanciare il portafoglio quindi che cosa faccio scelgo di entrare per esempio in questo caso qua magari su FTX adesso eviterei comunque scelgo di entrare con una piccola percentuale del mio capitale qualora fosse FTX ma delle cripto che io abbia in portafoglio andiamo a vederci un attimo e lo facciamo velocemente bitcoin che sta iniziando a mettere a dura prova il supporto storico eccolo qua allora questo supporto qua attattate che pulisco un attimo di altri guardiamo un attimo questi volumi che sono tanti in queste ore eccoci qua grafico settimanale c'è il supporto storico dei 18 e mezzo è stato violato settimanalmente oggi ragazzi è mercoledì quindi aspettiamo chiusura settimanale una cosa è certa abbiamo già visto no? bitcoin andare sotto i 18 e mezzo toccare i 17 e 7 abbiamo visto i 17 e 4 ieri è ovvio che l'indicazione rimane fortemente ribasista quando io vi dicevo nelle ultime analisi ragazzi attenti perché per me fin quando non si va sopra i 24 non ci sta da essere troppo euforici no? io già leggevo fine del bear market ragazzi non è così cioè bisogna riconoscere e bisogna saper gestire il mercato in base ai soldi che si ha e in base a quello che il mercato ci fa vedere cioè un mercato che è palesemente ribassista io non posso definirlo non posso definire il bear market determinato cioè il mercato orso non è finito fino a quando non ci sono delle prove inconfutabili lato dinamiche, lato trend lato comunque anche situazione economica mondiale che richiamino positività cioè ora non c'è positività non c'è quantità di vising non c'è il nasdaq positivo l'SMP non è positivo i vari indici non sono positivi ci sono diversi problemi nel mondo ci sono dei tassi di interesse in costante rialzo quindi diciamo chi ha soldi anche se a bassa percentuale di guadagno ma preferisce metterli su quei mercati che sono un po' più sereni più tranquilli ogni mercato può fallire ragazzi abbiamo visto l'immobiliare abbiamo visto le internet abbiamo visto ci sono stati diversi no? diversi mercati che hanno fatto il botto diciamo così però bisogna sapere come posizionarsi sui mercati non possiamo essere sempre convinti di essere dei geni dei fenomeni perché secondo me o perché io perché più giù di così non si può andare non è vero niente il mercato ci insegna sempre ci insegna sempre cosa fare ed è importante leggerlo per quello che ci sta dimostrando adesso Bitcoin sta violando un supporto che è un supporto fondamentale dovesse perdere questo supporto andiamo dritti dritti in zona 12 cioè non è che ve lo dico da oggi ve lo dico da mesi ci sono dei livelli che vanno riconosciuti poi possiamo essere euforici, contenti, tristi, annoiati oggi la bambina piangeva, non ho dormito tutto quello che volete ma bisogna essere razionali e logici il mercato non ci dice nulla di strano e non sono i blog, i gruppi a fare il mercato il mercato lo fanno i grossi fondi i grossi istituti che hanno tanto potere di acquisto ovviamente hanno anche tanto potere di vendita quindi Bitcoin è un trend ribassista sì, sul lungo periodo sì non c'è stata nessuna indicazione di inversione sì, nessuna indicazione perciò non facciamo che fantastichiamo andiamo a vederci anche Ethereum che come sapete ve lo dico ormai da non so più quanto tempo ne ho fatte poche perché sennò dico sempre le stesse cose eccolo, Ethereum andava contrariamente a Bitcoin e stava resistendo molto bene il supporto del 1.270 un supporto molto forte secondo me la prossima zona che va tenuta sotto controllo la conoscete già perché questo io l'ho messo non so quanto tempo fa ho messo questo supporto il supporto del 1.070 1.060, 1.070 allora questo è un supporto importantissimo proprio importantissimo che non è ancora stato mai toccato ovviamente il trend di lungo periodo è un trend ribassista cioè non è un trend positivo ha dato qualche cenno di possibile ripartenza ha fatto qualche rimbalzino lato daily attenzione ve lo dico sempre quando facciamo operatività al lato giornaliero andiamo ad impostare stop e target giornalieri quando però dobbiamo fare investimenti è importante leggere il mercato per quello che dimostra e se si fanno investimenti qua il mercato è ribassista c'è un supporto che potrebbe tenere ma potrebbe anche non tenere e fin quando noi non vediamo una reale allora ragazzi dobbiamo vedere queste dinamiche qua cioè per iniziare ad essere positivi mentalmente dobbiamo vedere queste dinamiche non so se c'ho una freccia cioè queste sono le dinamiche che ci interessano aspettate che non siete niente di niente queste sono le dinamiche che ci interessano a noi dei massimi minimi massimi minimi massimi minimi massimi minimi massimi minimi cioè il trend è ribassista c'è poco da fare rompe dei livelli fa un imbalzino e diventa un altro minimo rompe andrà ancora più giù ragazzi se vanno giù si torna ai prezzi penso 2018-2019 cioè lo dico senza problemi cioè torniamo a vedere a rivedere magari un ethereum in zona 400-350 poi ognuno può fare le sue scelte sul lungo periodo la quota di capitale che tu vai a destinare alle cripto va gestita con razionalità ogni tot di discesa decidi di entrare e basta però hai sempre liquidità disponibile sempre detto questo va con una buona giornata mi raccomando lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale e per imparare ad operare per essere logici, lucidi e razionali io vi aspetto sul percorso scuola di trading pratico che partirà settimana prossima a tutti gli iscritti alla newsletter al gruppo telegram e a vari gruppi facebook ovviamente arriverà l'invito però soltanto per gli iscritti alla newsletter ci sarà la possibilità di sfruttare un coupon sconto che ovviamente è esclusivo per tutti gli iscritti alla mailing list detto questo grazie davvero buona giornata e mi raccomando usate il cervello a tutti